sì ciao mamma ciao come va tutto bene si è andata bene bene grazie non ti dico mamma è veramente carino bravo un bell'uomo davvero mamma mia sì mi piace tanto grazie uamuri grazie per complimenti trao, 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 trao walida e ai non leggeZ like dai dai ayti li meinen gus li kidair o xad yahudi CRISSa gulliche tanobe la kidaira we the key dairea e l'azienda perché è davvero quello che ti senti un amore e l'amore e il vostro amore e l'amore e il vostro amore 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 Iniziamo il cuore della vita! Come se stia a fare il mio cuore! Cosa? Come se stia a fare il suo lavoro! E dicevo che stia a fare il mio cuore! E allora, la mia morte è più semplice!